Voi mi dite Faya, se io mi dico Enrico, voi mi dite Faya, se io mi dico Enrico, voi mi dite Faya! A noi a Faya, buonasera! A Faya, si volerà a presentarvi un po' di gusto e sano Hip Hop, qui per Santa Maria Lanova. Diceva a noi, il sotto-zero, ho vinto il bolla, Guido Altonio, G5, G4. Vai dicendo. Eh, buonasera a tutti. Ragazzi, un momento, scusatemi, prima di cominciare, io volevo dire una cosa. Eh. Ma alcuna attenzione, è una cosa seria. In periodo delle elezioni, cari signori, non voglio fare propaganda elettorale, però vi voglio proporre un nome da scrivere sulla scheda, perché il maggior Enrico non andrà a votare. Un nome scritto, lo porto alla forza. Mi raccomando, è lui da votare. Diego, Diego! Sulle schede, tutti quattro chiedono, Armando Maradona.